Oggi Mussolini che cosa rappresenta per voi? Mussolini ha dato uno slancio all'Italia perché non neghiamo tutto ciò che lui ha fatto dell'Italia e da 70 anni a questa parte non è stato fatto assolutamente nulla, né per l'Italia né per gli italiani. Oggi da chi vi sentite rappresentati? Da Roberto Fiore io. Posso fare una domanda sulla sua maglietta? Humor nero. Richiama i campi di concentramento come se fosse la Disney? Humor nero. Grazie.